Due anni di lotta contro la burocrazia, ma alla fine, grazie a una speciale deroga, l'associazione Brianzola Cassago Chiama Cernobil è riuscita a consegnare due ambulanze recuperate in Italia come dono a un ospedale della regione di Cernigov. La cosa che ci ha fatto immensamente piacere e che ci ha stupito è stata l'accoglienza quando ufficialmente abbiamo consegnato le due ambulanze. Alla cerimonia non ha voluto mancare il nostro ambasciatore Davide della Cecilia che con molto piacere ha voluto essere presente. Prima ancora però dell'accoglienza e della consegna delle due ambulanze abbiamo avuto due momenti importanti presso la fondazione Pro Infanzia di Cernigov con la presenza dell'ambasciatore che è rimasto anche impressionato di questo progetto e di portare aiuti alimentari alle popolazioni del Donbass ancora in guerra e che erano profughi presso Cernigov. Prima delle ultime due ambulanze l'associazione Brianzola ne aveva donate altre 11 in ospedali ucraini. Il progetto proseguirà anche in futuro. Con la delibera che hanno fatto se troveremo altre ambulanze la richiesta c'è e le sistemeremo e le porteremo là sempre che siano attrezzate di attrezzatura infermieristica se no non possono entrare. Abbiamo bisogno in particolare di un'automedica che ha già fatto la richiesta. In questi giorni stiamo raccogliendo le adesioni per il progetto di accoglienza invernale e proprio per sensibilizzare questa adesione il prossimo 20 ottobre a Costa Masnaga grazie al comune che ci ha dato il patrocinio e anche al comune di Nibionda che ci ha dato il suo patrocinio organizzeremo uno spettacolo teatrale della filodrammatica Juventus Nova di Belledo la quale si esibirà gratuitamente, raccoglieremo dei fondi, tutti questi fondi serviranno per famiglie nuove che vogliono aderire ai quali non faremo pagare nessun costo del biglietto che è quella parte più importante economica. Grazie all'ambasciatore tre ragazzi ospitati presso famiglie italiane arriveranno qui e si fermeranno a frequentare gli studi superiori presso queste famiglie che oramai penso che saranno le famiglie italiane che ospiteranno queste bambine, queste ragazze a tutti gli effetti.